Ciao a tutti, di ritorno in Brasile a San Paolo. Le condizioni climatiche purtroppo non aiutano e il desafio di oggi lo faccio all'interno, anche perché la mia sfida oggi è stata riuscire a sopportare la sconfitta dell'Italia nella pallavolo contro il Brasile. Ma veniamo all'argomento di oggi. Voglio parlarvi di tre parole simili, ma attenzione, con delle differenze anche importanti tra di loro. Queste tre parole sono perché, poiché e purché. Partiamo dalle prime due, perché e poiché. Sono molto simili, significato è simile e corrisponde un po' al portoghese purché, solo che ci sono delle differenze. Perché si utilizza innanzitutto nelle domande, ok? Ad esempio perché non ti sei ancora iscritto alla settimana vai? Chiaro, no? Oppure si utilizza nelle frasi affermative, però perché segue sempre la frase principale. Ad esempio non mi sono ancora iscritto alla settimana vai perché non ha avuto tempo, ok? Possiamo utilizzare anche poiché, ma in questo caso la proposizione causale, ok? Che utilizza poiché viene messa prima della frase principale e quindi sarebbe, esempio, poiché non ho avuto tempo, non mi sono ancora iscritto alla settimana vai, ok? Quindi questa è la differenza sostanzialmente. Generalmente, vi ripeto, poiché viene utilizzata prima, ok? Viene messa prima della frase principale, mentre perché viene messa sempre dopo, ok? Veniamo adesso alla terza parola che è purché. Questa parola ha un significato totalmente differente, ok? Dalle altre due, quindi è molto simile a perché, ma ha un significato totalmente diverso. purché significa a condizione che, a patto che, vi faccio un esempio, parteciperò alla seconda settimana vai, purché ci sia Pierluigi, quindi cosa vuol dire? Parteciperò alla seconda settimana vai, a patto che, a condizione che, solo se c'è Pierluigi che fa lezione, ok? E quindi questo è il significato di purché. E normalmente, anzi, è sempre così, quando c'è purché si usa il congiuntivo, ok? Infatti ho detto, parteciperò alla seconda settimana vai, purché ci sia Pierluigi, ok? A fare lezione. Va bene, ragazzi, spero che sia chiara la differenza fra queste tre parole. Ovviamente vi rinnovo l'invito alla partecipazione, alla seconda settimana vai, che ci sarà adesso, ok? Lunedì, dal 22 al 26 di agosto. Partecipate, ci saranno molti argomenti, molti contenuti e quindi sarà un'ottima occasione per imparare o per migliorare il proprio italiano, ok? Ci vediamo presto, ciao!